Ecco la squadra che ha inflitto la Juve la prima sconfitta. Mazza e Kinces autori dei due gol. Padulazzi e Ferrario fecero buona guardia insieme con Scarpato, che anche oggi giocherà in modo eccellente. Cappello e il danese Jensen. L'uruguayano Garzia che segnerà il gol per i Bologna. La classifica dei Rosso-Blu è preoccupante. Urge far punti. È necessario portare via da Lucca almeno un pareggio. La partita si risolve nel primo tempo. Al tredicesimo minuto gol dei padroni di casa. Mori, Kinces, Mazza. A terra il centravanti e Mezzadri. Cartaneo ne approfitta per segnare. Gioia di breve durata, soltanto 11 minuti. Cappello da buon capitano trascina i suoi al contraattacco e conclude la solo con una stangata. Zotti ha deviato lateralmente. Sulla rimessa centramiche. Tocca Bonaretti, segna Garzia. È il pareggio. Giustificata esultanza. Punto prezioso per il Bologna. Potrebbe valere la permanenza in Serie A. Potrebbe valere la permanenza in Serie A. Potrebbe valere la permanenza in Serie A.